Salve carissimi amici, tutti qui è Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. In questo video parliamo di Kalia, l'era dei fondamenti, numero 3, l'unione necessaria. In copertina vediamo la nostra protagonista, ovvero sia la nostra Kalia e Tag, il suo amico Goblin. La copertina è, come sempre, ad opera di Elena Casagrande. La storia all'interno è opera di Luca Lamberti e Luca Cantone. I disegni sono di Matteo Leoni, abbiamo il primo cambio di disegnatore all'interno della serie. Del resto i primi due numeri erano una storia unica in due puntate. Adesso che per la punta è finita c'è stato un cambio di disegnatori, dopo la sigla vi dico che cosa ne penso di questo terzo numero di questa serie fantasy sotto l'etichetta Bugs Comics. Sigla! Faccio subito una doverosa premessa. Per dirvi un po' che cosa ne penso di questo volume, devo raccontarvi un po' di cose di questo volume stesso. Non scenderò in dettagli eccessivi, almeno ci proverò. E soprattutto cercherò di non andare a raccontarvi poi il finale di questo volume. Però visto che ci sono un po' di situazioni che si avvicendano nella prima parte dell'episodio e che vanno praticamente fino a metà, di alcune cose vi dovrò dire per accennarle perlomeno fino alla metà del volume. Quindi se siete incuriositi dal volume, volete leggerlo senza avere spoiler o anticipazioni per quanto molto molto generali, guardate questo video dopo aver letto il volume. Se invece volete semplicemente sapere la mia, non vi interessa leggerlo, non vi interessa avere spoiler minori, potete continuare la visione o l'ascolto di questo video. Il volume si apre con l'elfo Kalion, non mi ricordo già più come si chiama, che si risveglia dopo la battaglia che c'era stata alla fine del numero antecedente. È ritornato in vita con un orbo grigio, questa malattia che sta infestando l'universo di Theia, quindi sta diventando una sorta di spettro non morto, non sa bene che cosa sta diventando. E decide di tornare dal suo signore e padrone, col quale avrà poi un confronto anche piuttosto interessante per quel che riguarda per l'appunto il suo status quo e ciò che egli rappresenta per il mondo. Altra fazione in gioco sicuramente è quella della nostra alchimista co-protagonista, per come l'abbiamo vista nel numero antecedente, ovvero sia Lena con il suo fido compagno Aridan. E Lena che va a parlare niente poco di meno che proprio con il sovrano della città di Galdor. Era stata incaricata proprio dal sovrano di andare a recuperare l'alkest, ha fallito la missione non avendola portata, ma comunque le informazioni che porta sono piuttosto importanti. Il re quindi si chiede in che modo poter sfruttare questo status quo. Mi piace che all'interno di questo universo si capisca che ci siano diverse fazioni in gioco e che quindi c'è una sorta di lotta di potere tra le varie parti. E che quindi anche in questa lunga sequenza tra Lena, il re e un consigliere del re, si facciano molti riferimenti allo status quo, alla politica del mondo di Theia. E quindi la nostra Lena partirà per raggiungere Calia. Calia e Tag che nel frattempo stanno viaggiando verso, non mi ricordo come si chiamava la città che dovevano raggiungere, ma hanno raggiunto la cittadina di Stadbrek. Una cittadina piuttosto importante, fonte di grandi commerci, nel quale si fermeranno almeno per la notte, perché questa storia qui si ambienta fondamentalmente nel giorno e la notte dell'arrivo di Calia e Tag all'interno di questa cittadina, dove vivranno una breve avventura. Dulcis in fondo abbiamo anche i Jaldest, ancora non ho capito come si debbano pronunciare, ma va bene così, che si ritrovano ad un certo punto nella storia e da loro scopriamo ancora qualcosina di più di questo universo, di che cosa c'è forse dietro tutto questo. E li vediamo ancora più che attivi rispetto agli episodi antecedenti. Se prima avevamo visto solo Dacon andare verso Calia e darle di fatti la sua missione, qui li vediamo un pochettino più raccolti, li vediamo un pochettino più insieme, mentre discutono e dialogano di ciò che sta succedendo e di quali azioni intraprendere. Ancora una volta quindi c'è questa idea di una sorta di lotta geopolitica tra varie fazioni che sono tutte quante in gioco, con Calia e l'Alkest al centro di tutte quante le vicende. Alkest che deve essere portato necessariamente, non mi ricordo come si chiama la città, ma deve essere portato lì, perché a quanto pare lì ci dovrebbe essere il modo e la possibilità di fermare il morbo che sta dilagando nell'universo di Teia e fermandolo si potrà salvare quindi l'intera razza, tutte le razze di questo universo. Come vi dicevo ho cercato di darvi un po' quest'idea del farvi capire che ci sono tante fazioni in gioco, fermandovi indicativamente verso la pagina 40, senza scendere nei dettagli di quali sono i vari giochi di potere che lascio a voi il gusto di scoprire. Mentre invece la seconda parte della narrazione prende proprio le forze da quello che abbiamo visto nella primissima parte per raccontarci un'avventura abbastanza più autoconclusiva e che va a imporre nella serie quello che sarà un po' le dinamiche principali di questo gruppo, di questa serie. Quindi abbiamo queste varie fazioni messe in gioco, abbiamo la nostra protagonista con la sua missione, abbiamo gli altri personaggi, ciascuno con le proprie missioni, i propri ideali e abbiamo quindi un mondo che sembra andare tutto in un'unica direzione, seguendo un'unica strada. Ed è proprio quest'ottica che questa serie mi intriga abbastanza, nel senso che sembra voler raccontare una storia, una storia in un arco di numeri relativamente limitato. O almeno questa è proprio la sensazione che mi sta dando per come è scritta la storia, quella di voler raccontare per l'appunto una storia, non voler fare una serie infinita di numeri, ma magari raccontare per cicli, per stagioni, varie storie inanellate l'una dopo l'altra, ma che per l'appunto sono varie storie. Quindi arrivata la conclusione di questa storia, uno potrebbe scegliere se proseguire o meno nel corso per l'appunto delle storie successive. Questo terzo numero rimane un po' in quel limbo del mi è piaciuto, ma ancora non ho visto le potenzialità di questa serie. I personaggi, se nel primo episodio ci stava, nei primi due episodi ci stava che fossero, venissero approfonditi, ma non troppo perché comunque ci sarebbe dovuto essere spazio per loro nei numeri successivi, e quindi qui rimangono un po' molto statici a mio parere, non ci ho visto un'evoluzione nei vari personaggi o nulla che mi intregasse veramente. Di conseguenza rimango un po' a bocca asciutta, un po' a becco asciutto, quindi finisce per essere una storia che presa singolarmente non mi sento di bocciare, e non mi sento di dire che fa male ad acquistarla chi l'acquista o chi la legge, ma al tempo stesso non so neanche se io se voglio proseguire su questa china e andare a continuare questa serie. Quindi mi ero detto di leggere almeno la prima annata, perché la prima annata, i primi 12 numeri, che presumo possono essere un po' la prima stagione, sono comunque un modo per capire com'è questa serie, se può piacere o meno. Dopodiché di conseguenza trarrò le mie conclusioni e vedrò un attimino il da farsi. Probabilmente se la sensazione rimane questa, io arrivo al 12-13 numero, cerco di capire quando finisce questo arco narrativo in cui la nostra Kalia porta l'Alkest dove lo deve portare, questo arco narrativo qui, trarrò un attimo le mie conclusioni e le mie somme. Però se dovessero proseguire in questa direzione, non so se ho troppa intenzione di proseguire. Sicuramente ci sarà modo, tempo e spazio di vedere le dinamiche tra i vari personaggi, vedere come si approfondiscono. Quest'albo qui è sicuramente un albo strettamente di passaggio, un albo nel quale si voleva un attimo andare a inserire, riinserire i vari personaggi dopo quella che era la lunga premessa, il lungo preambolo narrativo, e metterci un po' le pedine nella scacchiera, rimostrare le pedine nella scacchiera e farci capire bene chi fosse cosa e quali fossero le loro intenzioni. Quindi credo che con i prossimi numeri ci sia modo anche di approfondirli, di analizzare questi personaggi e di comprendere meglio chi sono e cosa vogliono. Per ora rimane un po' una serie, forse fin troppo blanda, un pochettino tranquilla, carina da leggere, ma con la grossa mole di roba che seguo, finisce per essere quel qualcosa che probabilmente potrei tranquillamente sacrificare a favore di qualcos'altro. E questo è quanto avevo da dire per oggi. Nello spazio commenti vi invito a dire la vostra, se avete letto questo terzo numero di Calia, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se lo considerate migliore o peggiore dei precedenti e poterne quindi continuare la discussione assieme. Da Francesco, dalla Soffitta di Camera Mia è davvero tutto e noi ci vediamo ad una prossima video-opinione del canale. Ciao!